Sono tempi meravigliosi quelli attuali per Giulia Delellis e Andrea Damante. La coppia è da riuscita da uomini e donne è riuscita a mettere a frutto la partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi in maniera completa. Oltre ad aver trovato l'amore l'uno negli occhi dell'altra, i due stanno vivendo un periodo di intenso lavoro. Secondo un'indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, Giulia e Andrea avrebbero concordato un'ospitata prevista per Capodanno 2017 alla modica cifra di 19.000 euro. Tanto avrebbe sborsato un noto parco giochi del centro Italia per assicurarsi la presenza di entrambi all'evento previsto per l'ultima notte dell'anno. Il grande fratello VIP ha portato tanta ma tanta fortuna alla coppia formata da Andrea Damante e Giulia Delellis. I due, il prossimo Capodanno, per lavoro, presenzieranno in un noto parco giochi del centro Italia, alla modica cifra di 19.000 euro in totale. La partecipazione a uomini e donne e la presenza massiccia di entrambi all'interno del GF VIP ha permesso a Giulia e Andrea di essere consacrati quale coppia del momento. Nessun altro, nell'ambiente dei tronisti ed intorni, starebbe guadagnando altrettanto. Se Giulia dovesse riuscire a mandare in porto un altro progetto che le sta particolarmente a cuore, la sua popolarità godrebbe di un'altra forte impennata. La fidanzata di Andrea Damante avrebbe sostenuto i provini necessari a partecipare alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Per il momento la sua presenza è lungi dall'essere confermata, ma se l'ex corteggiatrice dovesse riuscire a mettere a segno anche questo colpo, si avvierebbe verso la sua consacrazione. È innegabile che sia proprio Giulia l'elemento forte della coppia. È stata lei, più che Andrea, a convogliare su di sé l'attenzione generale al punto che oggi ci sarebbe una vera e propria gara volta ad accaparrarsela nei ruoli di opinionista. La prima a volerla è stata Barbara D'Orso e Modella. Chi se ne frega.